Musica Musica Ci troviamo nella mia azienda che è situata a Peio a 1500 metri d'altezza. L'idea di partire con questa coltivazione è stata perché facevo l'estetista e usando dei prodotti che non erano proprio naturali cercavo un prodotto un po' particolare fatto con le piante ufficinali. Coltiviamo l'arnica, coltiviamo la menta, la melissa. Principalmente la nostra attività è coltivare le stelle alpine e anche a scopo cosmetico. Per insediarmi ho frequentato il corso San Michele per avere il primo insediamento. Da lì ho fatto anche il corso di piante ufficinali, ho scoperto che potevano esserci dei finiziamenti tramite il GAL Valdisole. Il progetto GAL ci ha finanziato tutto per partire, per insediarci, dall'acquisto delle piantine, dalle macchine alla serra, le canalette. Ci ha dato un aiuto un po' su tutto e persino su un caddy autocarro per poter trasportare prodotti e piantine. Noi collaboriamo con gli enti turistici, con gli albergatori, con gli APT che ci mandano delle persone a visitare l'azienda per dare un po' più di valore aggiunto al territorio, per cercare di far conoscere l'azienda. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!